La storia identitaria di Matera e della Basilicata, con i primi insediamenti di monaci basiliani, la chiusura dei sassi, l'allontanamento forzato dei suoi 15.200 abitanti e ancora le lotte per la terra dei braccianti del materano con la rivoltante fascista di San Mauroforte del 1940. Tutto questo è Case senza luce, Matera, spettacolo teatrale di Ulderico Pesce portato in scena nell'ex ospedale San Rocco di Matera, un luogo simbolico in quanto un ex carcere dove furono rinchiusi la maggior parte degli occupatori della terra del materano. Noi raccontiamo chi è stato rinchiuso qua dentro, Antonia Miccio per esempio, Antonia Miccio che è una donna che ha partorito dentro questo carcere, c'è un bambino che si chiama Pasquale Cirillo, oggi ha 79 anni, vive a San Mauroforte, è stato partorito in cella perché la mamma si è opposta al fascismo. Dove c'è buio c'è luce e spesso dove c'è luce c'è buio. La storia di Matera insegna questo, è una città che è stata considerata senza luce e invece nel tempo, ci sono voluti tanti anni, si è compreso che è piena di luce. Questa luce noi vogliamo raccontare con case senza luce, la luce di Matera. Vogliamo usare Matera come un luogo di racconto, non un luogo che è un contenitore per raccontare. L'incasso è interamente devoluto all'AIL di Matera che si occupa dei malati oncologici del materano. Il progetto è nato grazie alla legge 37 del 2014 della regione Basilicata sullo spettacolo dal vivo, in collaborazione con la soprintendenza archeologica di Basilicata e l'Unibas. Cioè se noi vogliamo sapere chi siamo nella nostra terra, nella nostra regione, la nostra vera identità, se ci vogliamo guardare allo specchio, Matera offre tante possibilità di specchio per sapere chi siamo e noi andiamo cercando questi luoghi per specchiarci e capire come dobbiamo vivere in questa nostra terra. Grazie a tutti.